Perché tu senza Soraya la tua fidanzata non ci vuoi stare, non riesci più ad andare avanti, ce l'ho detto fin quasi dall'inizio di questo programma, noi lo sai abbiamo cercato in tutti i modi di farti cambiare idea, ti ho fatto parlare anche con Maria, tu ricorderai durante un confessionale Maria è venuta e abbiamo parlato insieme a lei della tua situazione, poi tu ti sei ripreso, poi sei di nuovo ricaduto e adesso io credo Luca che sia arrivato il momento di prendere la tua decisione definitiva. Assolutamente sì. E quindi io te lo chiedo ufficialmente questa sera, questa volta veramente però in modo definitivo. Sì, sì, no ma… Tu vuoi lasciare la casa del GF? Sì. Sì, eh? Sì Alfo perché comunque questo è un percorso che al di là di quello che mi sta insegnando, che mi ha dato e di tutte le cose positive che porterò sempre con me e la gratitudine che ho verso di voi, no? Sì. Però è giusto che questo percorso lo fa chi sta tutti i giorni col sorriso e chi si diverte, io credo di mettercela tutta ma che purtroppo per un motivo o per un altro non riesco più a essere me stesso, capito? Nonostante provo a mettercela tutta, ecco. No, lo so, che tu ce l'abbia messa tutta non l'ho mai messo in dubbio, però si vede proprio che non ce la fai Luca, non c'è niente da fare, quindi è anche bene così. Grazie.